Uomini e donne. Lo schiaffo di Gemma è il sospetto di una sceneggiatura dietro le quinte? E se Gemma e Tina stessero orchestrando tutto per dare vita a uno spettacolo? Alcuni fan sono convinti di aver scoperto un indizio che suggerisce che le due stiano seguendo un copione. Nelle ultime puntate di Uomini e donne, lo schiaffo che Gemma Galgani ha dato a Valerio, il cavaliere napoletano giunto per corteggiarla, ha scatenato numerose discussioni sui social. Alcuni spettatori hanno avanzato una teoria che mette in dubbio l'autenticità del gesto. Secondo questa ipotesi, Tina Cipollari, storica opinionista del programma, avrebbe consigliato a Gemma di colpire Valerio. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Il gesto inaspettato di Gemma a Uomini e donne. Nel corso di una delle ultime puntate, Gemma ha chiamato Valerio per un ultimo saluto e, inaspettatamente, gli ha dato uno schiaffo. Questo gesto ha lasciato il pubblico sorpreso, scatenando la reazione di Valerio, che ha accusato Gemma di non essere mai stata del tutto sincera con i suoi corteggiatori. La scena ha provocato una discussione animata in studio, con Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno espresso il loro disappunto per il comportamento di Valerio. Tuttavia, alcuni telespettatori hanno notato particolari che potrebbero indicare che ci sia dell'altro. Tina ha orchestrato lo schiaffo? Secondo alcune teorie circolate sui social, Tina Cipollari avrebbe suggerito a Gemma di schiaffeggiare Valerio. Un post molto condiviso su X, precedentemente Twitter, afferma che Tina si sia avvicinata a Gemma prima della scena per dirle di agire in quel modo. Un utente ha scritto «Tina ha detto a Gemma di schiaffeggiarlo prima che uscisse» e poco dopo Gemma lo ha chiamato per congedarlo e poi lo ha colpito. Questo ha portato molti spettatori a rivedere la scena. Prima della pausa pubblicitaria, si vede Tina sussurrare qualcosa a Gemma, che risponde «sì, lo faccio!». Subito dopo richiama Valerio e lo colpisce. Quando lo schiaffo avviene, Tina applaude, dando l'impressione di essere compiaciuta, il che non è sfuggito agli spettatori. Alcuni hanno commentato «glie l'ha detto Tina prima della pubblicità», ma né l'opinionista né la produzione hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo. Le conseguenze di questo retroscena? Se fosse vero, significherebbe che Gemma avrebbe agito seguendo le indicazioni di Tina, qualcosa che non sorprenderebbe chi segue il programma da tempo. Gemma ha infatti spesso accolto i suggerimenti degli opinionisti, soprattutto in momenti di tensione. D'altra parte, c'è chi pensa che Gemma fosse davvero turbata dalle parole di Valerio e che il suo gesto, per quanto eccessivo, sia stata una reazione sincera. Forse la verità è più sfumata, ma i sospetti sollevati dai fan aggiungono mistero a una vicenda già intrigante. Con le nuove puntate alle porte, il pubblico si interroga sul futuro di Valerio. Alcune indiscrezioni lasciano intendere che il cavaliere potrebbe abbandonare il programma a causa di nuove rivelazioni. Tuttavia, resta da capire come Gemma reagirà e se offrirà altre spiegazioni sul suo comportamento.